Il prefetto Pagano ha inteso fare un primo incontro con tutti i sindaci della città metropolitana e la città metropolitana. Stamattina per delega del sindaco sono andati in prefettura, è stato un incontro proficuo, c'è stato anche un approccio bello da parte del prefetto di comunicazione e anche di ammettere e non nascondere quelli che sono i nostri problemi, i problemi della nostra terra. Uno dei problemi è la sicurezza urbana, non è solo un problema della città di Napoli, tanti comuni hanno questo problema e si è parlato anche di come arrivare a una soluzione. Chiaramente le riqualificazioni sono strategicamente importanti per il problema della percezione della sicurezza e proprio della sicurezza urbana, fino ad arrivare al tema delicato che è quello dell'ospitalità da dare ai migranti e nel caso specifico ai rifugiati politici. Qui c'è un piano della prefettura per distribuire questo problema umano su tutti i comuni e quindi c'è stato un invito gentile anche seguito dall'idea di bloccare i flussi rifugiati per quei comuni che costruiscono gli spar, queste strutture per accogliere i rifugiati. E' stato un approccio positivo, c'è stato anche un seguito con gli interventi non solo della città metropolitana ma anche di svariati comuni che hanno voluto anche spiegare al prefetto le condizioni attuali. Credo che sia un approccio importante e abbiamo tutti ringraziato il prefetto Pagano proprio con questo approccio. L'incontro è stato presieduto da lei ma anche dai rappresentanti delle forze dell'ordine, Carabinieri, Finanza e il nuovo questore dei ESO. Credo sia un inizio di forte collaborazione, noi non la faremo mancare anche probabilmente costruendo un meccanismo di compensazione per quei comuni che volessero essere non chiusi rispetto all'accoglienza dei rifugiati. Noi abbiamo nelle nostre deleghe le strade, le rotonde, i trasporti, le scuole. Credo che quei comuni che in maniera generosa diano una mano all'intera comunità dell'area metropolitana debbano anche avere un'accoglienza negli enti preposti. E questa accoglienza si può sicuramente concretizzare il loro aiuto vero e serio su quello che è la riqualificazione urbana dei loro territori. È un'idea che sta nascendo sempre più forte, credo che sia proprio della mission della nostra città metropolitana che è l'agenzia dei comuni in particolar modo. Noi dobbiamo offrire servizi ai comuni e in questo servizio ci deve essere anche l'aiuto alla prefettura per un tema che è dello Stato e quindi di tutti quanti noi.